soffoca per davvero vuoi dirmi che da me c'è gente tanto devi morire lo stesso quindi non cambia niente ma c'è gente che va anche là per esempio si beh quello là che mi è venuto qua ma quello aveva problemi in testo non mi ricordavo il decathlon della season 10 era strabello con la scia morto uno aspetta che ti perquisisco ok ho già visto uno dei suoi amici morto si è vero che esiste il tasto per mutare il microfono ma va bene e lo sai vero che tu ti lo vuoi suicidare a rispettarmi non riesco perché non è difficile buttarsi da una montagna ma infatti mi stavo cercando di dire ma non ci si può soffocare su fortement si sta affogando da sempre non so come io non ci sia mai riuscito ma va bene vabbè adesso mi soffo se ci riesco ok doveva riuscirci adesso non sta funzionando un letto di formazione morto anche questo cosa stai facendo cerco di soffocarmi io che ma le bestia canaia e magari cinquattore ciquattore ciquattore c'è no prima mi sono fatto sei chi di fila con le cico ti piace ma che cosa sta facendo questo madonna che c***o che c'è avuto oh ma c'è 4 kill c'è già superato il provino per i cammini ah no 5 kill con vittoria oppure 7 kill no con l'avevo killato un altro non riesco a soffruttare ma l'ho sempre fatto dai killami bravi vai che sei bravo dove è? dove è pinga pinga dove è? sarà lì eccolo è di sopra sopra la montagna lo vedo lo vedo ma dai madonna me lo puoi non killare ma non l'hai ancora ucciso è un po' capitale sto film a testa a testa a testa che c***o fa non mi riesce a beccare guarda che nambo c'è un altro sopra di questo ce nemmo ah vede qua ma giorni tu sei guarda me oh no 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 scusi smetti sta ballante non lo sta prendendo vedo sta ballando il vizio non lo prende no madonna stavo per morire da un botta pedali eh no guardala ma lo piccola adesso dai vaffanculo oh no l'olio mia finalmente ragazzi io ho saluto l'olio di vita oh ah ragazzi sapetevelo che unito di quell'arma io sono morto dai che scassi quella da merda ho ballato tutto il tempo non è riuscito ok guarda che capo bello spavate non ami solo che c'è l'olio di buttami nel fiume ma e l'accia non fa l'olio che culo raga io ho 38 di vita hai già 7 chi comunque se muori guarda aiuto ma vero ti voglio confermare ormai il 7 chi l'hai fatta ma lo sapevo che a brugliere facevo il nostro qui chiama no col cavolo bisogna finire la partita ora lei sa no mi dovete aspettare sì ma ormai sei già dentro il team hai fatto sette 8 kill lei o mica deve acquistare ma anche vittoria lo nominiamo cocapo si vabbè che si vabbè che il cocapo cioè vabbè che io se sono raccolta sarei più forte del capo eh beh io che sto già tanto che provino è che hai fatto per entrare nel team pubblicano di certo ok ma se tu dovresti fare un po' vino credo che in pubblica non riuscire a fare manco 4 kill ma sarebbe entrato per simpatia giusto sì no 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 è entrato per simpatia non è che sarebbe è entrato per simpatia si si attiva lo design player aspetta il record che lo devo fare io so avviare una votazione per la tua espulsione esatto neanche tu farlo però cacchio è che sta risparando a un player ah perfetto è mio perfetto è mio così a caso mi ricordo che deve entrare io nel team ma sei già dentro il team sì ma non mi interessa voglio fare kill cioè così aumento sempre di più di grado infatti c'è se io entro con 27 kill dovrei doveste nominarmi in capo a prescindere eh ricordo che la pubblica almeno al 50% fortuna chiaro che se magari si 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 ma allora se io tipo adesso muoio instant che che topa che ho cioè che che grado è morto un amico di quello di prima fatto il team dell'amico di prima fatto il team dell'amico di prima era un arabo io ho 11 kill 11 e se arrivo tipo terzo quarto dalla terza posizione alla prima secolo e in top 10 invece in top 10 top 10 sempre anziano top 10 con 15 kill top 10 con 15 kill e allora la c'è sopra le 15 kill puoi anche arrivare ultimo c'è no è impossibile sopra le 15 kill sopra le 15 kill sei direttamente con capo è giusto si allora dal top 100 la top 70 se poi io ho visto dove sei con 5 kill anzi con 7 kill dietro e uno da davanti lo vedo là in fondo oddio 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 però ha visto dove sono io ci senti davanti a te david lo so oh grande e anche davanti non pensavo che fosse arrivato fin qua poi lo vedo sta salendo ce so cosa no ce lo so dio cristo dovevo scappare c'è lo sposto c'è lo sposto scasso mi sono allevati dalle volle per piacere ma anche di brutto la ci Grazie.